Ciao a tutti, oggi prepareremo la mousse agli agrumi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa più il tempo di riposo in frigo. Gli ingredienti sono succo di limone, succo d'arancia, zucchero, amido di mais, aroma di limone e panna zuccherata. Diamo il via alla ricetta. Per prima cosa andremo a mettere la panna in frigo. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero, l'amido, il succo di limone, il succo d'arancia e l'aroma di limone. Facciamo cuocere per 6 minuti 90 gradi velocità 4 Il composto è pronto, trasferiamolo in una ciotola capiente, lasciamolo raffreddare completamente e laviamo e asciugiamo bene il boccale. Posizioniamo la panna in freezer per 30 minuti. Adesso montiamo la panna, quindi posizioniamo la farfalla sulle lame, la farfalla sulle lame, insieme la panna. Andiamo con il coperchio senza il mestruino e senza tempo andremo ad azionare il bimbi a velocità 3,5, osservando bene dal foro quando la panna sarà ben montata. La panna è ben montata, trasferiamola nella ciotola con il composto di agumi. Adesso amalgamiamo delicatamente con movimenti dall'alto verso il basso. Adesso posizioniamolo in frigo per almeno un'ora. Trascorso il tempo, serviamola in delle coppette. Mussa gli agrumi. Grazie e alla prossima ricetta. Mussa gli agrumi. 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 Grazie a tutti